Il Dio Il Dio Venti ore? Sì, ti ho dato un sonnifero Perché? Se non mi desideri ho paura che ti annoi Preferisco che tu dormi Scusa cara, dovrebbero essere arrivati Chi? Guarda Il foreign office annuncia la visita del ministro delle finanze Sir Harold Clark Che è giunto stamani accompagnato dalla consorte L'ambasciata britannica darà un ricevimento in suo onore il 5 luglio Il 5 luglio Ma non è il tuo compleanno Che cosa vuoi che ti regali cara? Dovrebbe esserci qualcosa che non ho Questo ricevimento si terrà nello storico castello di St. Just Sede dell'ambasciata britannica Teddy Clark indosserà la sua famosa collana composta di 11 smeraldi di inestimabile valore Che smeraldi È ancora aperto, Bella? Dipende Finora ho rifiutato tutte le offerte Perché? Costi molto? Una collana di smeraldi